Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come L'amatissimo comico Gabriele Corsi, attore del celebre trio Medusa, dopo una vita di successi cinematografici radiofonici e televisivi, si è ritrovato improvvisamente con i piedi nel fango. Scopriamo che cosa è successo all'amato artista romano, il brillante comico Gabriele Corsi è appena passato dalle stelle alle stalle. Ecco che cosa egli è accaduto nelle scorse ore, Gabriele Corsi, come si è ridotto l'attore. Gabriele Corsi ha studiato arte drammatica frequentando il celebre istituto di Roma Silvio D'Amico, e successivamente si è specializzato al Susan Strasbes Hector's Studio dove ha messo a punto le più importanti tecniche di recitazione. Da quel momento si è avvicinato sempre di più alla settima arte dedicandosi al cinema e alla televisione con tutto se stesso. Il suo grande debutto è legato alla celebre serie tv Il Maresciallo Rocca. Quella di Gabriele Corsi è stata una carriera davvero brillante, costellata di tanti riconoscimenti importanti e di progetti che vengono ricordati da tutto il pubblico. Tra questi senza dubbio ci sono gli sketch comici con il trio Medusa, composto da lui, Giorgio Maria Davidi e Furio Corsetti. Il trio ha spopolato, ed è diventato così richiesto da diventare il gruppo più amato del programma satirico Le Iene. Dopo i tanti successi ottenuti ora l'attore è nel fango. Scopriamo come mai. Il famoso comico e la vita bucolica, nelle scorse ore è apparsa sul web un'immagine che davvero nessuno si sarebbe aspettato di vedere. Il famoso comico a quanto pare è finito proprio bel fango. Ebbene sì Gabriele Corsi è stato fotografato abbigliato come un contadino e immerso in un insolito contesto bucolico, in mezzo alla natura. Questo però è proprio uno di quei casi in cui l'apparenza può ingannare. Il motivo infatti, è molto diverso da quello che si potrebbe immaginare. L'attore è pronto alla suo prossimo capolavoro, il programma televisivo Il contadino cerca moglie, trasmesso sul canale 9 di Discovery Plus, che ha l'obiettivo di far incontrare un gruppo di ragazze di città con altrettanti concorrenti che vivono in campagna. Per annunciare l'uscita della nuova stagione del progetto TV si è fatto ritrarre con i costumi di scena, e ha pubblicato la foto sul suo profilo ufficiale di Instagram con la simpatica Didascalia, conduttore e vuoi dei paesi tuoi. Insomma, i fan di Gabriele Corsi adesso possono dormire sogni tranquilli. L'artista romano non è in rovina e soprattutto potranno vederlo presto sul piccolo schermo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.